Succede che questi due scrittori in qualche modo sono diventati identificati come gli autori del racconto esistenziale. Indubbiamente sono due scrittori che hanno delle qualità, però c'è un pericolo. Il pericolo è che più o meno ripetano sempre lo stesso racconto. E Calvino scrive a Venturi, mi sento malato di andato con maldite, il racconto che vi ho detto, perché sto ripetendo sempre una storia mia. E allora dice, il premio viene segnato nel 5 gennaio del 47, dice, nei nostri buoni propositi bisogna che ci decidiamo ad abbandonare ogni racconto nel quale ci siamo noi. E Venturi, che è un altro scrittore del quale poi parleremo ancora, dice, sì, effettivamente tutti i miei racconti hanno una fine con il partigiano nuovo che finisce stesso sito sulle pagine del giornale dove viene pubblicato il racconto. Questo è uno spunto perché Calvino abbandoni il racconto e passi al romanzo. Siamo nel 47, quindi è passato un po' di tempo. Ecco, tempo nel quale, questo è un po' di sottolinearlo, nel quale c'è stata una sorta di rifiuto anche sistematico del romanzo. Voi certo, conoscete, avete sentito il nome di Vasco Prattovini. Prattovini, nel 46, pubblica due romanzi molto belli. Cronaca di poveri amanti e Cronaca famiglia. Questa parola cronaca, perché ci sta questa parola? Se non leggiamo questi due libri su due romanzi, però la parola romanzo è sgravita. La parola cronaca, invece, fa pensare a una cosa vera. C'è anche un racconto di Venturi che esce proprio sul Politecnico, in cui Venturi dice subito, questa non è un racconto, né tantomeno una storia romanzata all'americana. Questo è il risoporto di ciò che è successo. È un racconto, quello che poi vincerà, appunto, il premio che è l'unità. È un racconto molto violento, questi racconti sono tutti violenti, perché raccontano delle storie violente. Si intitola Cinque minuti di tempo e si spiega, si racconta di un trappello tedesco che fa evoluzione della casa di due donne che hanno protetto nottetempo i partigiani, li hanno ospitati. E allora questi tedeschi cosa possono chiedere a queste due donne? Di rivelargli dove sono finiti i partigiani. Come si chiamavano? Chiedono quanti erano, chi li comandava? Le due donne, ovviamente, rifiutano di confessare e chiedono cinque minuti di tempo per decidere cosa fare. Passano cinque minuti di tempo, i tedeschi entrano nella cucina e trovano le due donne implicate. Ecco, e questo viene raccontato con lo stesso senso di verità che noi troviamo se leggiamo in questi giorni i racconti sulla prima guerra mondiale. Cioè ci si rende conto che la guerra non è solo un fatto di vittime indivisa, anche due donne, due casalette possono essere vittime di quella solità che hanno in guerra. Bene, Calvino lascia il racconto. Tra l'altro tutti questi, cioè una parte di questi racconti potete leggere nel libro L'ultimo viene il corvo che viene pubblicato nel 49. C'è il Calvino neorealista che è interessante per vedere poi il Calvino dei nostri antenati quindi c'è questa bella evoluzione dello scrittore. C'è anche il Calvino umoristico che è, direi, irresistibile, uno dei racconti più belli di Ultimo viene il corvo è finito in pasticceria che ha dato un po' lo spunto per i film i soliti ignoti, non vi ricordate, ma questa banda poco credibile, dove c'è anche lì, ora a ora, c'è anche il racconto di Calvino che poi dopo aver organizzato un furto che doveva portare a scassinare il sabato e la scassa morte finisce con il tirare fuori un piatto di pasta e fagioli da un frigorifero, c'è uno spunto simile anche a un furto di pasticceria. Bene, torniamo a Calvino, al Calvino del sentiero di Dittiragno che è questo racconto fantastico della maniera vista con gli occhi di un bambino e perché è questa soluzione? Calvino l'ha detto più volte finché continuavo a scrivere dei racconti dove ero io il protagonista e mi accorgevo che c'era troppo di me e allora ho dovuto trovare un protagonista che non mi assomigliasse per nulla e questo protagonista non poteva essere perché qualcuno anche una graficamente non poteva essere soltanto un bambino. Ecco dunque questo bambino come nome alle iniziali del bambino letterario più famoso del mondo Pinocchio piccolo Pinocchio, Pin ecco dunque questo racconto lungo nel quale c'è anche il momento ideologico ma evidentemente siamo lo scenario di una brigata di partigiani comunisti nel San Premese e dunque c'è tutto quello che deve esserci come indottrinamento però Calvino riesce a creare un clima favoroso questo bosco misterioso nel quale si nasconde la pistola questo sentiero ammesso che i ragni facciano dei liti non è tutto su questa chiave di invenzione anche questo bambino che diventa grande e deve passare una prova di maturità che consiste nel rubare una pistola a un tedesco che si è guardato per la sorella i motivi della resistenza ci sono tutti però sono portati nell'ottica di un bambino ecco finora abbiamo parlato di racconti abbiamo parlato di una letteratura che non è cruda Calvino stesso nel 50 scriverà un articolo e dirà che se quantitativamente la resistenza ha prodotto molti testi in effetti pensate che solo nel 45-46 la produzione dei libri si moltiplica nel 44 hanno stati pubblicati circa 2.500 nel 45 si arriva a 4.500 nel 46 addirittura 6.000 libri pubblicati cos'erano questi libri sulla resistenza? molto spesso erano dei diari dei memoriali degli epistolari dei documenti soprattutto di una stessa zona ci possono essere 2-3 libri focalizziamoci su Alba che ci interessa anche per questo signore che vediamo qua davanti nel 45-46 escono 3 libri di documento su quello che è successo ad Alba nell'Ampese esce un libro di Piero Chiodi che si intitola Banditi e della storia di un trappello partigiano che combattere dell'Ampese Piero Chiodi non filosofo ma è stato professore di filosofia di Fenoglio un anno dopo esce la cultura di Alba dell'Ampese di Monsignor Grassi era il risco di Roma e comunque la guerra era vista dal versante della Curia lo stesso anno esce con me e con gli albini di Martini Mauri che era il comandante delle formazioni partigiane azzurre delle danche azzurre cioè monarchiche cioè averse e rosse che erano i garbandini comunisti ecco vedete 3 libri su questo scenario di vicende resistenziali ecco vi dicevo soltanto a Cuneo si aprono conseguite tipografie nei primi mesi dopo la liberazione ci sono numerosi episodiosi quindi la prima fase di questo era successo davanti dopo la prima guerra mondiale già nel 18 nel novembre poi nel 19 si pubblicherà un infinito numero di libri su Caporetto cos'è successo a Caporetto che cosa è stata all'origine di quella disfatta di quella ritirata lo stesso accade nel secondo dopo si vuole capire che cosa è successo nei vari scenari della lotta partigiana ma tutto questo non è letteratura ce lo dice direi che anche con un po' di cinismo Cesare Pavese proprio nel recensire uno dei tarot di libri di guerra di guerra scritto da un genovese Pino Levi Cavaglione Guerridia nei Castelli Romani e cosa dice Pavese nella prefazione dice senza mezzi termini per essere un buono scrittore non basta essere stati eroi e dice un'altra che con molta secchezza quale documento quale possibilità abbiamo noi di conoscere la verità se non una fotografia dice quello che si cerca di scrivere è sempre molto meno efficace di una qualunque rappresentazione che colpisca la vista e in effetti tutto quello che abbiamo è un documento un documento spesso fazioso un documento spesso celebrativo un documento geografico però manca la possibilità di far vivere questi episodi perché c'è anche evidentemente l'ipoteca ideologica ancora forte e perché la resistenza era stato anche un fatto politico oltre che un fatto di generare la volontà di contribuire alla rinascita del paese era un fatto politico nel quale non c'è bisogno di tornare per il saputo nel quale la sinistra aveva per lungo tempo geopolizzato l'interpretazione della resistenza e la prova l'abbiamo nel 50 vittorini vittorini che era stato in grande polemica contro gli atti sapete che il Politecnico a un certo punto ospita una polemica perché Vittorini viene accusato di avere atteggiamenti non troppo inquadrati con la residenza della novista della cultura e della letteratura come supporto a un'ideologia e allora c'è il famoso articolo di Vittorini il quale afferma che lo scrittore non deve suonare il piffero della rivoluzione no e questo capite che non poteva essere accorto dal vecchio e allora Vittorini abbandona il Politecnico ce lo fa finire e Togliatti scrive in quell'altro articolo già dal titolo un po' la cronale dei gettori presso i naudi siamo inizio degli anni 50 chi devono essere gli autori dei gettori devono essere dei scrittori che prima di scrivere hanno vissuto e quindi hanno compiuto delle esperienze che le hanno fatti sperimentare quello che è la vita e poi tutto questo lo hanno portato sulle loro pagine questo è un po' uno statuto dello scrittore che aveva già riconosciuto Pavese nel 40 aveva scritto una prefazione a Venito Sereno che è un romanzo di Merville e aveva intitolato in questa prefazione Merville il baleniere letterato e cosa aveva sostenuto che Merville riusciva a coinvolgerci nella caccia a Mopedic prima aveva dovuto fare un baleniere infatti il titolo è il baleniere letterato non è letterato baleniere ecco dunque la vita che conta più e prima della scrittura in un ambiente letterale italiano che spesso era un ambiente di letterate a capolino ecco che Treni vuole che gli autori dei gettoni siano uomini comuni che hanno fatto esperienze di vita comune e poi hanno deciso di scrivere ecco perché gli piace Fenoglio ecco perché gli piace Marelligone esterne perché sono uomini che hanno fatto nella vita e stanno facendo nella vita dell'attività che non sono essenzialmente primariamente quelle dello scrittore ecco allora che in questa collana Vittorini pubblica due libri sulla resistenza Fausto e Arnia di Cassola e i 23 giorni della città che ha e questi due libri diventano subito versando della critica di sinistra perché Cassola e Fausto e Arnia ci racconta come il partigiano Fausto e esprima delle riserve su quello che sta facendo si pone dei gruppi non è per nulla dogmatico il Fenoglio nei 23 giorni lo stadiato che cosa che cosa racconta racconta di un partigiano che ha rubato e viene fucilato giustamente però ha rubato soprattutto racconta l'occupazione partigiana di Arma e la paracola a un carnevale di mille divise e dice che i partigiani erano tutti dei gran bravi ragazzi e come Italia avevano un'infinità di difetti e dice che quando Arma viene in pratica abbandonata dai fascisti sono in 3.000 a sfinare per le vie della città a farsi banto ma poi quando i fascisti vogliono tornare saranno solo 200 a difendere la difesa rispetto alla visione ufficiale trionfalistica celebrativa della Resistenza capite che questa è una visione molto poco ortodossa e infatti interviene proprio togliati sul settimanale del partito comunista in quanto al paracola a bollare non firma con il suo nome e cognome firmarlo dei regoli di Castiglia a bollare il romanzo di Cassola dicendo che queste vicende anche se ci sono state non vanno accontate non viene un po' in mente scusate questo accostamento di opposti il commento di Andreotti proprio a proposito dei figli realisti dicendo che i panni stolti si lavano in famiglia ecco vedete questo rifiuto di una verità che non è quella ufficiale che a volte avvicina quelli che allora erano degli estremi dico quelli che lavorano per adesso questi estremi si toccano facilmente anzi vanno apprecciati bene il libro di Cassola viene attaccato da Toglianti il libro di Ferroglio è un'altra storia ancora viene attaccato da dei cronisti anonimi non ricordo i nomi ma penso che si classero non firmassero perché su tre edizioni dell'unità si parla di questo libro in termini sempre più carichi di acredine e addirittura si dice certo se Fenoglio che fa il commerciante di vini si comporta nel suo lavoro come nel raccontare la resistenza pensiamo che i suoi vini siano adulterati e annacquati ecco questo atteggiamento fortemente critico ma sia l'uno sia l'altro avevano visto quello che era successo quello che era stato e un po' alla volta allora vediamo che ci avviciniamo a una seconda fase del racconto della resistenza e poi intanto vorrei dire per completare il discorso che noi abbiamo fatto prima sul neuralismo fino a fondo che è scelto con l'omaggio della donna beh cioè il neuralismo in effetti è fatto da scrittori è fatto da cineasti che parlano quasi sempre di problemi di uomini e ce ne avvise da morire direnate figano ma siamo già nel 49 e il cinema si occupa delle donne cioè Giuseppe De Santis la vita delle condine ricordate l'iso amaro l'esorto di Caspa Raffa un paulone ecco la donna entra in letteratura e questo è un altro discorso che non abbiamo il tempo di fare però erano ancora dopo la resistenza che è difficile per le donne per le scrittrici noi credo molti di noi abbiamo conosciuto Lianna Milo e Lianna Milo scrive il fuori di il canale una serie di racconti sulla sua deportazione quindi cosa c'era di più drammatico scoppongente accettabile invece non è stato accettato per nulla questo suo libro pubblicato un po' con la macchia dall'oridore degli miscopastici nel 1947 però per equilibrare le cose una storia simile è successa proprio a primo da primo legno anche se questo nuovo viene rifiutato dai naudi viene rifiutato da Natalia e Ginzi quello che pure è un problema dell'orocausto lo conosceva e anche il primo legno pubblicato anche se questo non è un piccolo editore però il caso vuole che negli anni 50 sia la Milo presso Mondadori e sia per golevi presso il pubblico possano rimanere nel pubblico ora il tema resistenziale come vedete è finora una prodotto delle grandi opere perché la parte documentaristica ha prevalso perché il racconto ha un po' tagliato la strada romanzo e viene un periodo in cui negli anni 50 sembra che ormai il destino sia segnato perché poi negli anni 50 ormai la rotta di liberazione è un tema lontano perché parte del nostro paese sta vivendo il boom economico e allora quelli che erano i problemi del dopoguerra il problema della guerra civile il problema della disoccupazione il problema ovviamente dell'occupazione nazista che sono problemi lontani e allora che cosa leggono gli italiani qual è il bestseller italiano del tempo lo leggono sull'ottocento nel gatto parco ci siamo dimenticati i tedeschi fascisti la beneditta marzapotto e i lettori si appassionano nelle vicende di questo nobile affascinante un uomo delle stelle pieni di questo principe che in persona ha fatto bene con la sua filosofia del tutto campo che non la cambi in persona un povero che un sentire diffuso degli italiani che hanno fatto presto dimenticarsi delle richieste di vittorini di una cultura che servisse alla crescita civile del paese ecco il libro il tanto parco la resistenza è dimenticata no però viene raccontato in un altro modo ancora Carlo Cassone ci interessa e ci interessa proprio Massani escono all'inizio degli anni sessanta quando l'editoria è diventata un'industria quando si cerca il versetto perché è un libro di successo è un affare economico è stato un affare economico per Felfinelli e il gatto pardo venduto in migliaia di copie in centinaia di copie si scopre che poi se noi a un libro di successo facciamo seguire da quello che hanno un film e allora questo libro rivive ecco Bart Lankast e la cardinale che vivono questo vallo indimenticabile ecco il pubblico si sta orientando verso quella direzione il pubblico non ha più il racconto del romanzo crudo come prima vi ho esemplificato il racconto di Marcello Venturi delle donne impiccate però la resistenza compare in un altro modo a sola pubblica La ragazza è un libro ambientato con la resistenza in Toscana e già il titolo però non ci serve perché ci fa capire che l'attenzione di Cassola non è rivolta a un per questo partigiano che poi si parte di un delitto sono varie vicende non edificanti ma sulla sua ragazza su Mara questa donna che in fondo è molto più forte di lui questa donna che è al centro del romanzo però c'è anche la resistenza c'è una resistenza non ufficiale che però è vera non è vera neanche a soldi aveva già scritto sulla resistenza di vecchi compagni altri racconti e alcuni pubblicati proprio di Egitto ecco dunque quest'altro modo di portare un tema resistenziale ma vissuto sotto un'ottica non storica ma un'ottica generalmente genericamente direi ancora umana e lo stesso accade un po' anche nel libro nel romanzo di di Massani Massani è stato credo uno dei racconti più belli sulla resistenza la lunga notte del 43 pubblicato all'interno delle storie ferraresi nel 55 uno straordinario film di Florestan Mancini ma scriverà poi un altro romanzo un certino di Fianzi Contini ovviamente è la storia di una famiglia regia è la storia di una famiglia ebrea potente di Rick ed è poi la storia di una catastrofe di un declino di questa famiglia che non ha conti la declina perché sono emanate le leggi naziali e perché la storia era stritta non si parla della realtà del holocausto perché se l'ultima pagina è proprio l'illuzione della polizia nella casa della vina ferraresi ma è un senso proprio della fragilità umana che colpisce tutti colpisce anche una giata famiglia nel giardino cos'è questa specie di Eden nel quale si radunano si trovano si incontrano si amano dei giovani e tutto finisce con questo senso di fragilità fragilità anche rapportata a chi sembrerebbe intoccabile al di sopra come era allora le famiglie ecco dunque che il discorso di Bassani non è più neanche questa volta un discorso ancora fatto della storia ma è la storia come la metastoria qualcosa che va di là un declino dell'umanità attraverso una pagina storica siamo nel 62 il tempo sta passando però qualcosa veramente arriviamo nel 63 che è un anno cruciale ci sono alcuni libri sulla resistenza e sono libri importanti esce pure una morte il libro di una donna Giovanna Zangrandi che è stata una staffetta partigiana in una zona che difficilmente collegheremo alla lotta alla guerra alla morte cioè la cortina nel dolomino un scenario incomparabile scrive i giorni veri che ho fatto pubblicare negli anni 90 che è veramente un libro di grandissima spessore esce anche le abbiamo citate tante volte adesso scriviamo il suo libro più importante esce anche la terra bianca Cefalonia di Marcello Venturi è un libro che sorprende tanto Venturi è stato lo scrive Venturi il vero scrittore neorealista e Venturi ancora che forse alcuni di voi hanno conosciuto di persona l'ho ripetuto fino agli ultimi giorni della sua vita io ho scritto per stare a Toscano dalla parte dei poveri Cristi ma direi anche Cefalonia di questo la vicenda è una vicenda che per molti tempi è stata ignorata sapete la strage di Cidio compiuto nell'isola di Rionio subito dopo l'8 settembre i tedeschi sono un piccolo trappello con le idee chiare e i 10.000 soldati italiani della divisione a qui non sanno cosa fare sono abbandonati e vanno al destino e i tedeschi li intimano la resa e il loro generale il generale Gandin fa una specie di referenza tra i suoi soldati cosa vogliamo fare ci vogliamo arrendere beh insomma no combattiamo combattiamo però i tedeschi nel frattempo chiamano in forza i tedeschi nel frattempo contano sugli aerei sull'avvenzione e si ingaggia una battaglia una battaglia che è perduta gli italiani non hanno armi non hanno ordini e in sostanza vengono fatti prigionieri e dopo essere fatti prigionieri per giorni e giorni vengono fucilati saranno 6.000 i soldati della divisione a qui morti a Cefaloni unicidio Grattini dirà che i primi prigionieri della resistenza italiana lo è indubbiamente lo è stato ma di questo presogno non si parla di là perché perché non è stata la sostanza dell'SS a commettere questo incidio ma la Femmack quindi l'esercito ufficiale della Germania con la quale negli anni 50 si cerca in nome della Real Politec di andare d'accordo per formare quella che ha messo la comunità europea sarebbe stato a 10 dicembre tirar fuori questo scherzo degli romani e allora lo fa venturi perché lo fa venturi perché legge su una rivista il ponte un trafiletto non è più un trafiletto di uno degli ufficiali scampati a Ciofadonia si chiamava Amos Pampaloni in cui riporta che è uscito uno studio che riguarda anche il resto e lui si incuriosisce non sapeva nulla e va a Ciofadonia per sapere cosa è successo parla con i pochi subestri ma in realtà poi non riesce a tenere nessuna informazione perché nel frattempo a Ciofadonia è successo qualcosa che ha scoporto solo le persone ma anche il paesaggio c'è stato un grande terremoto e quindi molte persone sono morte molti oggetti sono andati perduti e in sostanza rimane il dubbio ma come hanno fatto cento duecento trecento soldati tedeschi a fucilare per giorni e giorni degli uomini davanti a loro dopo averli fatto scavare forse è possibile che che l'uomo arrivi a tanto e con l'interrogativo dei futuri e questo libro avrà un affetto deflagrante e Visetta comincerà a fare le ricerche troverà di colpevoli però il tribunale tedesco cosa dirà e con l'interrogativo di solito ascolti e ascolti che si con l'interrogativo di solito